musica Salve youtubers e benvenuti a questo nuovo episodio di WorldRog&Co come potete vedere sono cambiate molte cose dall'ultimo video abbiamo adesso una intro per il canale e sto usando oltre a Fraps anche altri programmi per registrare come Bandicam, Action, in questo caso Bandicam e adesso proseguiamo con i nostri WorldRog di Warcraft 3 questa volta con la prima missione della campagna dei non morti che trucco è mai questo? Mal'Ganis, non so come tu sia riuscito a sopravvivere ma... calmati principe Arthas sono Tichondrius come Mal'Ganis sono un signore delle tenebre ma non un tuo nemico a dire il vero sono qui per congratularmi con te congratularti uccidendo tuo padre e consegnando questa terra al flagello hai superato la prima prova il re dei lich è contento del tuo entusiasmo già in suo nome ho condannato tutti coloro che ho amato e non ne provo rimorso nessuna vergogna né pietà la tua spada runica è stata forgiata dal re dei lich in persona e possiede il potere di rubare le anime la tua è stata la prima allora ne farò a meno qual è il volere del re dei lich? il culto dei dannati deve tornare in vita molti accoliti sono nascosti fra la popolazione quando li avrai radunati ti fornirò ulteriori istruzioni ed è così dunque che inizia la prima missione e come potete vedere ormai Arthas è completamente cambiato è passato totalmente dalla parte del male ed è diventato un cavaliere della morte cominciamo a capirci come si suol dire è passato al Dark Side salve mio signore Kel'Thuzad il nostro padrone ci ha detto che sareste arrivato Kel'Thuzad come poteva saperlo? fate attenzione se gli abitanti notassero i vostri amici non morti chiamerebbero le guardie per fermarvi bene si ragazzi Kel'Thuzad è resuscitato ed è vivo anche se la sua parte del male la dovremmo resuscitare in un'altra missione che comunque è sempre durante la campagna la tua pena ti verrà leggendaria ti farò su lincepe Arthas tutti alle armi per il re Lich finalmente cominciamo a capirci finalmente finalmente ora imparerai cosa sia il vero tormento Rostmur cercate le tombe i sepolti vi serviranno volentieri grazie sarò i tuoi occhi vediamo mi muovo inosservato tutto sarà rivelato vediamo tutto sarà rivelato vediamo tutto sarà rivelato darò un'occhiata tutto sarà rivelato mi muovo inosservato ok tutto sarà rivelato vediamo mi muovo inosservato tra l'altro non posso passare da qui darò un'occhiata tutto sarà rivelato vediamo vediamo e devo far fuori questi due possono però questi fanno il passaggio cammina in punta di piedi cominciamo a capirci finalmente i morti si sono risvegliati guardia cominciamo a capirci la mia vita per nerd finalmente darò un'occhiata tutto sarà rivelato parla idiota sarò i tuoi occhi nessuno può darmi ordini cominciamo a capirci finalmente i morti si sono risvegliati guardia Frostmourne ha fame mi inchino il tuo volere finalmente cominciamo a capirci cosa vuoi vedere? darò un'occhiata vediamo parla, idiota ah finalmente finalmente cominciamo a capirci finalmente cominciamo a capirci la tua pena diverrà leggendaria finalmente i morti si sono risvegliati guardia ora Frostmourne ha fame ora Frostmourne finalmente ora Frostmourne cominciamo a capirci finalmente i morti si sono risvegliati guardia a vivo solo per servire finalmente non morti suonate l'allarme la missione la missione stilt ho rovinato tutto aiuto non immaggia la mia memoria di merda sono fortunato queste tombe sono state scavate di recente eh si però non morti sorgi in nome del re dei lici la tua pena diverrà leggendaria ok sarò i tuoi occhi tutto sarà rivelato e cosa c'è ora? cominciamo a capirci la mia vista è tua darò un'occhiata parla idiota finalmente la mia vita per l'Hercule sarò i tuoi occhi tutto sarà rivelato e cosa c'è ora? ok di qui in poi dovrei essere apposto finalmente cosa vuoi vedere? ragazzi quindi non fate come meno attaccate la cosa frontalmente vediamo tutto sarà rivelato mi muovo inosservato quando arrivate alle porte insomma ecco un altro cominciamo a capirci cominciamo a capirci Frostmourne ha fame e le tue preghiere cominciamo a capirci banditti scappate Frostmourne ha fame finalmente finalmente Frostmourne ha fame sono sempre a livelli sono sempre a livelli cominciamo a capirci cominciamo a capirci cominciamo cominciamo finalmente ora imparerai cosa sia il vero torneo Frostmourne ha fame no finalmente sarò i tuoi occhi mi muovo inosservato tutto sarà rivelato cominciamo mi muovo inosservato mi muovo inosservato Frostmourne ha fame cominciamo a capirci Frostmourne ha fame per il re Lich la tua pena ti verrà legge devo solo per servirvi vi farò soffrire ora Frostmourne ora Frostmourne cominciamo a capirci aumenta l'agilità d'eroe cammina in punta di piedi ma si poteva trovare di meglio la mia vista è tua mi muovo inosservato idiota Frostmourne ha fame cosa vuoi vedere e cosa c'è ora? cominciamo la mia vista è tua all'attacco nessuno può darvi ordini mi inchino il tuo volere cosa vuoi vedere? tutto sarà rivelato che cosa c'è ora? non c'è ancora anche la spira mortale cacio è rimasto solo per il re Lich ora Frostmourne è solo un fountain La mia vista è tua. Mi muovo inosservato. Ah, idiota. Mi farò soffrire. La tua pena diverrà leggendaria. Frostmourne ha fame. Non morti, suonate l'allarme. Finalmente. Per il re Ligio. No, finalmente. No, lì c'è il cavaliere. Tutto sarà rivelato. La mia vista è tua. Mi muovo inosservato. Vediamo. Ah, idiota. Eh, ma lì c'è troppa gente, cazzo. Cosa vuoi vedere? Non riesco a montarla tutta. Mi muovo inosservato. Darò un'occhiata. Eh, là ti devi andare a mettere tu. Tutto sarà rivelato. Darò un'occhiata. Mi muovo inosservato. Darò un'occhiata. Guarda quanti sono là. Mi muovo inosservato. Tutto sarà rivelato. Ma quanti ne devo? Venti accoliti. Darò un'occhiata. Tutto sarà rivelato. Mi muovo inosservato. Darò un'occhiata. L'altro accaduto. Tutto sarà rivelato. Io posso farmi un'occhiata. Mi muovo inosservato. Se la matematica non è un'opinione. Tutto sarà rivelato. Mi muovo inosservato. Dunque, il primo dov'è? Darò un'occhiata. Cammino in punta di piedi. Finalmente. Pietà, signore. Frostmourne ha fame. I morti si sono risvegliati. Guardie. Finalmente. Lo sono per servirvi. C'hai traditi tutti. Mio signore. Frostmourne ha fame. Uccideteli tutti. La mia vita ha perduto. Cominciamo. Frostmourne ha fame. I morti si sono risvegliati. Guardie. Frostmourne ha fame. Aiuto. I non morti sono tornati. Mi inclino il tuo volere. Finalmente. Sono stato bravo nei giochi stiti. Corri. Finalmente. Victory. Cominciamo a capirci. Trollosa ma vittoria. Finalmente. Ben fatto, Cavaliere della Morte. Il culto è quasi riunito. Non mi ha sentito nessuno. L'Orderon è distrutta. Sono stato più stiti e distrutto. Come possono aiutarci i cultisti? Ti assisteranno nella tua prossima impresa. Sarebbe a dire? Ti recherai ad Andorral per recuperare i resti del precedente maestro degli accoliti. Kel'Thuzad, il necromante. Per l'appunto. E beh. Finisce anche qui un altro Waltraug di Warcraft 3. Ci rivediamo al prossimo video, ragazzi. Bye bye. Bye bye. Ciao